La Will FPL Messina comunica di aver dato mandato al proprio legale avvocato Oreste Puglisi al fine di presentare una denunzia contro i gnoti per le misteriosi cancellazioni di alcuni propri iscritti, transitati spiegabilmente a Lorenza Butta dalla Will FPL alla Cisle FP di Messina. I fatti per i quali sarà presentata una denunzia alla magistratura si sono verificati all'aspi di Messina. Desideriamo venga fatta chiarezza, afferma Pippo Calapai, segretario generale della Will FPL di Messina, perché non riusciamo a comprendere quanto accaduto. Pretendiamo venga fatta chiarezza dagli organi competenti affinché si accertano eventuali responsabilità. Non vogliamo puntare l'indice contro alcuno, ma chiediamo chiarezza su un fatto, a nostro avviso inquietante, che lede la rappresentatività di un sindacato maggiormente rappresentativo nel comparto sanità in provincia di Messina. Qual è il nostro? Abbiamo sempre improntato la nostra azione sindacale all'insegna della correttezza. Ciò che intendiamo denunziare è un fatto gravissimo, perché i nostri lavoratori si sono trovati iscritti alla Cisle FP a loro insaputa.